Rappresentare, tutelare, rivendicare i diritti e i legittimi interessi di una categoria sensibile che a dieci anni l'entrata in vigore del codice antimafia svolge ogni giorno incarichi delicati fondamentali da un punto di vista legale, soprattutto sociale. Con questo obiettivo nasce Sinegeco, il sindacato nazionale degli amministratori giudiziari e coadiutori, ovvero una libera associazione tra i professionisti iscritti all'albo degli amministratori giudiziari da oggi rappresentati, così in tutte le sedi istituzionali. L'albo non è rappresentato direttamente da un ordine e quindi abbiamo sentito l'esigenza oggi che ci sono circa, si va per i 4 mila iscritti, di avere la possibilità di raccontare a tutti questo mondo particolare che dai numeri sta diventando un mondo sempre più importante. Sinegeco nasce dall'esigenza degli amministratori giudiziari ma soprattutto anche dei coadiutori che in questi ultimi anni, diciamo così, non hanno potuto bene dialogare con l'agenzia Sinegeco si farà di tramite. Legalità sociale, impegno lavoro per lo Stato, con lo Stato, svolto da professionisti che rivendicano il loro ruolo oggi prezioso, oggi più che mai fondamentale.